oggi siamo all'ongarone guardate quella se non dico una stronzata dovrebbe essere la diga del bayonne eccola lì quella è la diga in cui è entrata una montagna e ha fatto un disastro ma la sapete tutti la storia guardatela lì da lungarone si vede oggi siamo in giro con thomas o di thomas o fotografi link in descrizione con il suo kawasaki gpz r 900 la moto di top can nel film tom cruise la moto di tom cruise nel film to come ormai sapete non so nulla delle strade nordiche e questo per me vorrebbe un pochino essere la stagione della scoperta adesso proviamo ad alzare un pochino il tiro vediamo se si accende il fuoco sacro del motociclista ci dà comunque thomas thomas o fotografi è un fotografo ma manca in moto frasi intelligenti che come se piovesse il mare di mucca è un cielo che non vedi solo in montagna ma quelle sono le tre cime di lavaredo cazzo ci ho azzeccato questo è il lago di misurina e lì l'inverno si scia mi ricordo una volta l'abbiamo fatto tutto con gli sci perché si piaccia questo l'inverno eccoci qua adesso facciamo una pausa il melaviglioso lago di misurina ve l'ho detto che è il lago di misurina a questo punto il video si interrompe la gopro muore improvvisamente la batteria scarica forse avrei dovuto intendere il presagio ho avuto un sinistro ho avuto un sinistro sul lato destro thomas purtroppo è stato coinvolto perché al momento era seduto dietro la mia moto insomma è stata una giornata piena di imprevisti e ne siamo usciti vi anticipo anche questo ne siamo usciti io credo nel migliore dei modi è una storia che vale la pena essere raccontata ve la racconterò nel prossimo episodio vi aspetto ciao ho bevuto una red bull gialla perché la moto è gialla ecco è per questo che mi sono fermato a lei perché è giallo